Sono tutti negativi i tamponi, circa una sessantina, effettuati sui parenti, sui contagi diretti di una donna residente a Bergamo, che nei giorni scorsi, dopo una breve vacanza nel Borgo Silano, era rientrata in Lombardia scoprendo di aver contratto il coronavirus. A darne notizia il sindaco di Caccuri, Marianna Caligiuri, che nei giorni scorsi, dopo la scoperta del caso positivo, aveva disposto per precauzione la chiusura del palazzo comunale, dove un dipendente aveva avuto contatti con la donna e delle attività commerciali. La donna, originaria di Caccuri, era arrivata con il marito e il figlio in paese ad inizio luglio. Aveva anche fatto un tampone prima di partire dalla Lombardia, che era risultato negativo. Nei giorni scorsi è rientrata da sola a Bergamo perché doveva sottoporsi ad una visita e in quell'occasione le è stata riscontrata la positività. La donna, comunque a Caccuri, non aveva avuto modo di uscire di casa proprio a causa delle sue condizioni di salute, anche se i familiari, risultati poi negativi al tampone, avevano condotto una vita normale incontrando parenti ed amici. Tutti i tamponi effettuati a Caccuri, segnala il sindaco Caligiuri, sono negativi. Tra questi e i test sierologici si è provveduto ad effettuare uno screening capillare completo della popolazione, che permette di escludere la presenza di persone ammalate di coronavirus.